Ed eccoci qui carissimi amici di Infinity Games di nuovo sul mio canale Allora ragazzi questo video lo devo dedicare a tutti coloro che da un bel po' di tempo quindi sto parlando da più di una settimana che mi continuano a scrivere e a fare domande relativi a un titolo un titolo che è uscito gratis quindi questo è importante ricordarlo uscì completamente gratuito sulla piattaforma di Epic Games e parliamo di Ark Survival che è successo? Allora le domande che mi venivano appunto rivolte ma veramente tante erano appunto relativi a degli errori pesanti errori a lancio, errori mentre giocavi allora io purtroppo ho dovuto rispondere a molti di voi che non conoscevo questi errori perché non avevo ancora installato il gioco ho installato il gioco, l'ho provato più e più volte addirittura a un certo punto l'ho proprio disinstallato perché è vero ragazzi ci sono molti errori allora a me personalmente me ne sono dovuti scrivere pensate personalmente gli errori erano tre freeze quindi mentre ero in partita multiplayer sto parlando scusate all'improvviso lo schermo diventa completamente bloccato non puoi fare niente, non puoi muovere niente non puoi uscire dal gioco, non puoi fare un cavolo di niente e questo diciamo è un problema che ovviamente non riguarda solo ARK perché a me è capitato anche in altri giochi ma raramente in ARK mi è capitato più volte ok e in realtà è capitato anche due o tre volte nella stessa partita va bene ok possiamo parlare anche di problemi sui server a quel punto comunque siamo in multiplayer sappiamo che diversi titoli ovviamente si appoggiano a dei server magari può crashare il server e a quel punto il gioco si blocca oddio potrebbe dare anche altri errori ma diciamo che quello che mi è capitato di più appunto è il freeze completo dello schermo poi caricamenti infiniti e si ragazzi cioè al momento che devo caricare o lanciare una partita il caricamento è stati bene cioè posso scendere giù vado a mangiare torno sopra mi faccio un caffè e nel frattempo questo continua sempre a caricare ovviamente ragazzi non sta caricando un cazzo di niente ma si è completamente bloccato quindi prendi fai alt cance tutta quella merda che bisogna toccare per appunto ritornare forse al desktop e così via a questo punto mi sono un po' diciamo così ho cercato in qualche modo di capire questi problemi da dove provengono addirittura ho dovuto chiedere all'assistenza di Epic Games che devo dire sono stati davvero davvero gentili che ringrazio vivamente ma ragazzi gli errori non sono soltanto questi attenzione gli stessi errori non stanno solo sulla piattaforma di Epic Games ma stanno anche su Steam ok? ho letto un bel po' di cose no? tra persone come noi come me che giocano appunto a Ark che appunto questi problemi ci sono ragazzi e addirittura ci sono altri tipi di problemi come l'app Crash quindi Crash totale nessun suono cioè addirittura entri in gioco e non senti un cazzo di nulla cioè non c'è musica non ci sono voci non c'è niente non ci sono niente il suono non esiste ovviamente c'è qualcosa sotto che non va e ovviamente non possiamo dare la colpa ai server o sì forse anche quelli ma quelli ragazzi capita pure il Red Dead Redemption a me che sto giocando all'improvviso mi butta fuori dal gioco perché il server magari è caduto in quel momento ma questo è un problema che diciamo tra virgolette è normale può succedere ma quando manca il suono o durante una partita attenzione non in multiplayer ma in single player ok? quindi dal giocatore singolo mi si blocca il gioco e allora aspetta un attimo non è un problema di server qua è un problema di gioco e neanche la piattaforma di Epic Games può essere perché ragazzi sto giocando a altri titoli su Epic Games sto giocando a Main Eater sto giocando a Beyond Blue non mi succede nulla gioco a Dark e si blocca tutto allora ragazzi diciamo che ho letto anche un po' come riuscire a risolvere in qualche modo diciamo così questi problemi non sono semplici da risolvere ve lo dico subito perché comunque purtroppo voi a parte riferire e fate bene non potete fare quasi nulla l'unica cosa che potete iniziare a fare prima di giocare quindi disinstallate il gioco installate nuovamente il gioco almeno questo mi è stato consigliato andate vedete questi tre puntini qui non sto facendo un esempio con Beyond Blue ma fatelo con Ark su questi tre puntini c'è scritto verifica quando ci cliccate diciamo che Epic Games si adopera nel verificare i contenuti di gioco quando l'ho fatto io con Ark effettivamente mi è uscito che c'era un gioco c'era un contenuto errato ok quindi è evidente che c'è qualcosa che bisogna sistemare un pochino nel gioco ma ovviamente ragazzi io lo dico sempre non è l'unico video che lo dico non sono un professionista su queste cose non sono un tecnico ok e mai mi permetterei di dire che sono un esperto ok perché qua nessuno può essere un esperto ovviamente coloro che possono darci una mano sono appunto quelli dell'assistenza di Epic Games che ragazzi fidatevi rispondono e sono gentilissimi davvero non voglio fare pubblicità perché a me non mi paga nessuno però sono davvero gentili allora come facciamo ad andare perché questo è il primo passo ragazzi da fare senza che smanettate toccate fate perché perdete tempo rischiate di danneggiare qualcosa non serve a niente allora con calma andiamo su impostazioni del vostro account attenzione vostro account personale di Epic Games andate su impostazioni e giù a tutto ragazzi sta scritto assistenza ok fatevi magari anche uno sguardo un po' sul web giusto per capire un poco quali sono questi errori se gli stessi che leggete sono uguali a quelli che avete riscontrato quindi fatevi un poco di cultura sotto questo punto di vista dopodiché contattateli basta andare su assistenza vi porto nella pagina ovviamente ufficiale ok di Epic Games e se ovviamente non volete leggere tutto in inglese andate qui su questo diciamo mappamondo diciamo così che a specie di mondo vabbè comunque su italiano ed ecco qui la traduzione in italiano ok ragazzi ora ora andate direttamente su contattaci e ovviamente qua mi richiede l'accesso io adesso non lo faccio perché tengo l'account più personale vabbè ma basta che voi una volta fatto accesso quindi che volete accedere diciamo a questi contatti basta che mettete il vostro account e il gioco è fatto dopodiché incominciate a chiedere aiuto proprio all'assistenza ufficiale di Epic Games ok ragazzi andatevi a leggere anche qualcosa ok perché dove appunto c'è l'assistenza ma questo non solo su Epic Games su tante piattaforme ci sono già botte e risposta tra coloro che sono dall'altra parte ok che vi devono aiutare e voi da questa parte che fate le domande ci sono già spesso persone che hanno gli stessi vostri problemi e all'interno troverete delle risposte che vi possono aiutare ok ragazzi quindi questo è il consiglio che io vi do purtroppo mi dispiace ragazzi dirvi che non ho una soluzione io al momento non ce l'ho una soluzione mi dispiace per tutti coloro che mi hanno scritto il problema qui è che sicuramente si stanno adoperando per sistemare le cose io adesso l'ho disinstallato quindi un giorno e mezzo due giorni che non lo sto manco più provando perché a furia di prova sempre c'è che palle quindi l'ho disinstallato quindi può essere anche in questi due giorni abbiano sistemato le cose io non lo so ok però se avete continuate ad avere questi problemi ragazzi fate quello che vi ho detto non state a sentire a persone ma anche sul web attenzione se non sono botte e risposta tra coloro che effettivamente lavorano ufficialmente per la piattaforma vuoi che sia di Steam vuoi che sia di Epic Games o del gioco stesso non statele a sentire perché ho letto addirittura cose molto molto particolari addirittura scarica questo software per risolvere problemi del gioco non scaricate un cazzo ok perché non sappiamo questi software se sono ufficiali se sono buoni se danneggiano il computer non fate questi errori seguite agli esperti quindi contattate loro primo passaggio il gioco voi l'avete recuperato gratuitamente quindi non avete rubato nulla a nessuno il gioco non è un gioco pirata per l'amor di Dio ma è un gioco che appunto hanno messo loro loro vi devono comunque mettere in condizioni sicuramente di poter giocare ok e lo fanno lo fanno quindi ragazzi io spero di essere stato chiaro e che questo video vi sia servito soprattutto per tutti coloro che purtroppo non ho potuto rispondere nell'immediatezza ai commenti quindi spero che a qualcosa possa servire fate questo vabbè che già l'ho consigliato nei commenti di contattare immediatamente l'assistenza e purtroppo è l'unica via di uscita perché ho provato io in prima persona ragazzi veramente un macello si ci stanno quell'oretta e mezza a due ore che magari ho giocato anche io tranquillo senza che succeda però spesso succede e ovviamente uno non può stare lì con l'ansia che mentre sta a fare una partita bella e buona mi crasha tutto il mondo no no che palle eh no che palle quindi questo è il mio consiglio leggete fatevi una cultura su questa situazione se veramente ci tenete a giocare a Dark andate poi sull'assistenza di Epic Games o assistenza di Steam se avete il gioco su Steam è indifferente parlate con loro e cercate di risolvere il problema non vi preoccupate per quanto riguarda meno Epic Games ma penso sia lo stesso per Steam e sono veramente preparati e ovviamente vi danno una mano quindi non vi preoccupate ragazzi e niente io spero di essere stato chiaro e che questo video vi sia stato utile ragazzi se voi volete farmi delle domande io sono a vostra completa disposizione rispondo sempre voi lo sapete e chiedo scusa a coloro che non ho potuto rispondere subito ragazzi ma vi ho spiegato il problema non lo conoscevo proprio cioè non sapevo proprio di questi problemi ok non avendoci giocato vabbè ragazzi da Infinity Games è tutto e io niente ci vediamo qui sul mio canale con tantissimi altri contenuti tantissime news e spero non con i problemi e niente ragazzi iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella ciao a tutti